Buongiorno a tutti i lettori del Messaggero Veneto. Ci troviamo a Lignano Sabiadoro dove l'emergenza sanitaria non ancora conclusa non ha fermato la voglia d'estate. La giornata è splendida e c'è già parecchia gente in spiaggia. C'è chi opta per una passeggiata in riva al mare, c'è invece chi si è attrezzato già stendendo il proprio asciugamano sulla spiaggia e chi addirittura si è portato il proprio ombrellone. La stagione balneare non è ancora iniziata, infatti l'inaugurazione è prevista per il 3 giugno sempre se la curva epidemica non salirà ulteriormente. Gli stabilimenti balneari invece verranno aperti il prossimo fine settimana. Gli uffici spiaggia sono in fase di allestimento che non è ancora concluso. Se Sabiadoro, Capineta, che Arriviera verranno aperti ufficialmente la prossima settimana si potrà prenotare il proprio ombrellone. Per questa estate rimangono ancora parecchie incognite, prima fra le quali è la gestione delle spiagge libere che per la prima volta in assoluto verranno organizzate. Ci saranno dei paletti, dei picchetti che segnaleranno il posto in cui ciascuna persona può installare il proprio ombrellone. L'ingresso saranno quindi contingentati, controllati e anche la sorveglianza sarà alta. Per il momento comunque fino alla prossima settimana, fino quindi all'apertura ufficiale degli stabilimenti balneari, in spiaggia si può entrare liberamente, ci si può tuffare in acqua, si può prendere il sole, si può fare una passeggiata, fare jogging o qualunque altra attività fisica, sempre ovviamente mantenendo le distanze ed evitando assembramenti.